Il macchinario funziona da qualche settimana nel reparto di neuroradiologia dell'ospedale Vitofazzi di Lecce. Si tratta della seconda delle due risonanze magnetiche fornite dalla Philips. La prima è in servizio a radiologia dell'oncologico dallo scorso mese di maggio. Un apparecchio fa sapere il primario Fernando Lupo dal software studiato per questo reparto e quindi diverso dall'altra installata all'oncologico. La nuova macchina dispone di un cuore da 1,5 Tesla e ha sostituito la gloriosa risonanza da 0,5 Tesla che ha lavorato dal 1994 fino allo scorso mese di agosto. Un macchinario che richiede grande precisione e calibratura, spiega il dottor Lupo, ma che consentirà di sbloccare tutta l'attività che riguarda gli studi funzionali. Finora abbiamo fatto solo le morfologiche ma appena saremo al regime effettueremo gli esami che finora non è stato possibile. Se per esempio c'è una lesione del sistema nervoso andremo a vedere quali fibre sono state intaccate. Il dottor Lupo pensa di utilizzare il nuovo software per eseguire le perfusioni, una tecnica che consente di individuare e recuperare i tessuti cerebrali non compromessi da un'ischemia o da un ictus, in quanto non tutti i danni ischemici sono da considerarsi irreversibili. Un'altra importante performance di questa macchina è inoltre la possibilità di effettuare una trattografia, ossia misurare deficit dovuti a malattie demielinizzanti come sclerosi multipla e SLA oppure all'invecchiamento. Il primario si propone inoltre di eseguire anche le spettroscopie ovvero lo studio diretto delle alterazioni delle attività metaboliche funzionali del sistema nervoso centrale. Con questa risonanza infine è possibile eseguire le anestesie soprattutto su quei pazienti inviati dalla rianimazione, i claustrofobici, i pazienti in teneretà e i soggetti non collaboranti. Probabilmente il problema sarà costituito dalla lunga lista di attese e dalla disponibilità di personale.